Chiude il 30 giugno l'attività della Sicilia Polis, l'impresa che sta curando la sorveglianza al Tribunale di Ragusa. Tuttavia ad oggi non esisterebbe alcun tipo di indicazione sul futuro con nove unità che rischierebbero il posto di lavoro. A lanciare l'allarme il segretario della Wiltux Will Ragusa, Angelo Gulizia. Secondo quanto sottolinea il sindacalista, mancando allo stato attuale i vertici del Tribunale, dato che non è ancora stato nominato il nuovo presidente, sembra che ogni tipo di decisione dovrebbe essere presa da Catania. Tuttavia, secondo quanto riportato dal sindacalista in una nota ufficiale, dato che nulla sembrerebbe muoversi e data l'imminente scadenza del contratto, si chiedono risposte. La prefettura ha programmato per questa mattina un incontro urgente in Tribunale, anche se non ci sarà la presenza delle parti sociali, per poter comprendere che cosa potrà succedere sulla delicata avvertenza. La strada potrebbe essere un'eventuale proroga, ma ancora è solo ipotizzato dal sindacato, che si domanda se sia possibile. Nell'ambito di un regime di appalto interno al Ministero, dovrebbe prima essere chiesta, poi accordata e quindi concessa, scrive Angelo Gulizia, ci siamo dunque muovendo per garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali. E vogliamo evitare che si ripeta, quanto si verifichi in altre realtà siciliane, sempre con riferimento allo stesso servizio, cioè si creano le condizioni per far venire meno le garanzie della salvaguardia occupazionale, facendo in modo che non ci sia alcuna continuità. E tutto ciò, senza tutela alcuna, per le mansioni e i livelli acquisiti nel corso del tempo degli operatori, continua il sindacalista nell'ammissivo ufficiale. Per non parlare poi del fatto che un presidio sensibile come il Tribunale non potrà contare sui adeguati apporti di vigilanza da parte di chi ha maturato una determinata professionalità. Insomma, un disagio dietro l'altro che speriamo di ben focalizzare con il supporto della Prefettura, scrive Gulizia, individuando i problemi che ci sono stati e quelli che rischiano di presentarsi. Continueremo ad essere vigili per scongiurare questo ulteriore disagio ai danni dell'occupazione del nostro territorio, conclude così la nota la Wiltux.